Dormi Maria, la notte scende ormai, salcendono le luci le lati con la città, vedremo in questa sera, non sembra una città, dormi, oh dormi Maria. Un mondo avvolto dall'indifferenza continua a celebrare uno sfrenato consumismo in nome del figlio di Dio, ma Natale non è tanto aprire i regali quanto aprire i cuori per accogliere Gesù. Con questo messaggio le parrocchie della Madonna del Carmine di San Giovanni con Don Raffaele Iorizzo e le sorelle della scuola primaria San Francesco Saverio hanno ideato uno spettacolo musicale itinerante nel quale i protagonisti sono stati oltre 150 bambini e ragazzi. A loro è stato affidato il compito di portare in scena il vero significato del Natale che stride con le abitudini del giorno d'oggi, della società del benessere, in cui trionfano gli acquisti e gli sprechi. Vieno le voci di questi mille anni che stanno andando via ho bisogno di una magia, ho bisogno di una magia, se no che è Natale, se no che è Natale, che è Natale. Lo spettacolo, se fosse veramente Natale, si conclude proprio con la scelta di Maria e Giuseppe di far nascere il figlio di Dio in una stalla, condividendo la condizione dei più poveri e bisognosi. Venite adoriamo, venite adoriamo, il Signore Gesù. per la scelta di Maria e Giuseppe di Dio in una stalla, Grazie a tutti.